Ciao ragazzi, bentornati sul canale. In questo video voglio presentarvi un oggetto che ritengo molto 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 utile per ottenere un ottimo bilanciamento del modello e un corretto rollio della macchina. Questo oggetto si chiama BrickPod, come vedete vi ho messo davanti i tre modelli di auto che ho io, una ovviamente una Evo con telaio PN 2.5, stessa cosa la 98 e una MR04 in questo caso perché questo adattatore, questo TrickPod, lavora sia per le 0.3 che per le 0.4 ok? Lasciamo un attimo da parte gli altri due modelli, andiamo a vedere un attimo la 0.4 ovviamente è indicato 0.398, ok? Provo a avvicinarvelo, ma è come vedete compatibile al 100% sulla 0.4 anche perché telaisticamente è la stessa identica cosa della 0.3. A cosa cosa serve principalmente? Come vi ho detto il bilanciamento ok, ma perché? Perché la macchina per poter lavorare in modo corretto ovviamente deve essere perfettamente in linea, ok? Non può esserci il banchino posteriore che lavora non in linea col modello. Come si usa? Come si regola? In questo caso io ve l'ho fatto vedere già inserito. Per andare a portare la macchina in perfetto allineamento noi dobbiamo andare a mollare leggermente le viti sul T-plate, noi le dobbiamo andare a levare, basta leggermente mollarle in modo da renderlo libero, noi le andiamo a muovere, ok? Come vedete noi abbiamo, adesso finisco di mollarle tutte e quattro, vi faccio vedere i movimenti che ha sul telaio di plastica, mi sa che queste qua sono inutili perché non si muovono minimamente, ma su quelli in alluminio diventa molto più importante anche qua, perché qua il movimento è molto limitato, ma su un telaio in alluminio vi consiglio di andare a allentare anche le due posteriori. Quindi una volta allentate le viti, come vedete noi abbiamo praticamente il banchino che in questo momento fa questo lavoro qua. Allora così, vedete questo movimento? Ok? Questo movimento se io adesso vado a stringere il T-plate senza usare il T-Pod, posso rischiare di andarlo a montare, adesso io vi accentuo l'errore, ma potrebbe essere montato che non è perfettamente in linea con la macchina. Invece come si usa? Andiamo a allentare, abbiamo queste due insenature che vanno proprio a infilarsi nel, le vedete qua, ok? Il telaio della Mini Z le ha, sia da un lato che dall'altra, le vedete tutte e due, quindi noi quando lo andiamo a inserire, andiamo a portare esattamente, vediamo se riesco a farvelo vedere, ok, qua, intanto poi cercherò di ingrandire sempre l'immagine come sempre, vedete che i perni si sono inseriti qua, nei tagli che ha il T-Pod stesso, ve ne smonto un altro così, intanto che è montato, vedete, ve lo faccio vedere, ha queste due insenature qua, che sono quelle apposta proprio per entrare nel telaio, una volta che lo andiamo a inserire nella macchina abbiamo la certezza di aver portato la macchina perfettamente in linea, cioè le ruote sono perfettamente allineate al telaio, ok? La macchina è in linea obbligatoria, a questo punto cosa faccio? Vado a stringermi le viti del T-Plate, quando stringo le viti del T-Plate, adesso vediamo se ho mollato anche queste, un pochettino, che ripeto, in questo caso non serve, però non fa male se le allentate leggermente, non dovete smontarle, mi raccomando, dovete solo allentarle che si possa muovere, in questo momento le ho strette ovviamente tutte e sicuramente ho la certezza di aver portato l'allineamento del posteriore sulla macchina, ok? Se vado su una tavola di riscontro, che sono queste qua, dove vado a posizionarmi il modello per andare a verificare se la macchina è allineata, vedrete che ho sicuramente un allineamento ottimale, scusate, che fatto a mano, guardandolo da così ovviamente non è detto che riesco a ottenere questo lavoro, questo lavoro migliora, oltre all'allineamento migliora l'io, perché se io la macchina ce l'ho perfettamente in linea, andrà a lavorare in tutti e due sensi perfettamente nello stesso modo e non crea sbilanciamenti, perché il posteriore, io vi faccio sempre vedere il lavoro accentuato, è in questo modo, invece in questo caso è perfettamente in linea con le gomme, ovviamente vi consiglio di fare questo controllo quando andate a montare le gomme, questa verifica, poi nell'utilizzo può succedere che per colpa di urti o per colpa di qualsiasi altra o per il consumo stesso delle gomme si debba riallineare, però considerate sempre di fare un lavoro perfetto a gomma nuova e macchina, l'andate a montare, l'andate a controllare, verificate i movimenti e poi usate il tripod per andarla a portare alla perfezione, come vi volevo far vedere, esiste la versione 0.398 come scritto qua, ovviamente in descrizione vi metterò i tre modelli esistenti con i link per andarli a comprare direttamente sul sito di MiniZ Racing, quindi avete il link diretto in descrizione per andarli a acquistare, se volete ovviamente andarli a comprare e abbiamo, la dicitura è 0.3 perché sta a indicare telaio 0.3.98, passo 98, poi c'è la dicitura 25.98 che è il telaio 2.5 della PN che vedete su questa macchina qua, ok, telaio 2.5 PN, passo 98, si chiama 25.98 e per la 102 che in questo caso la mia, ve lo vado a rimontare un attimo, così lo vediamo anche collegato proprio al modello, adesso sarebbe da rimollare ma, ok, adesso l'ho già stretto, l'ho già fatto l'allineamento, è inutile che vada a forzarla, 25.102 sta a indicare telaio PN 2.5, come vedete su questo modello qua, 102 è il passo, ok, passo 102, ok, se vi servono video di, per chiarire passo 98, 102, scrivetemi nei commenti, ve lo faccio, ho già fatto il video della LM, classico, MM, no, poi l'M che è il passo 98, se volete vi passo, vi faccio anche l'LM che è il 102, magari un giorno vi faccio anche la differenza dei banchini e per quello che riguarda questo, quindi i trick pod sono qua, sono tre, vi farò vedere come vi ho già detto la marca e della Tecno Racing sono, vi ho già fatto vedere che sono tre modelli, vi ho fatto vedere che va sulla 0.4, mi raccomando non confondete 0.398 ma è perfettamente come vi ho fatto vedere compatibile sulla 0.4 e ovviamente, ovviamente compatibile sulle box stock, sulle macchine di scatola, il 0.3 di scatola, ok, io prendo, lo vado ad inserire qua, adesso questa ha un po' mesurate un po' avviaggiato, come potete vedere va benissimo anche, ovviamente è una 0.3 però in più ve lo faccio anche vedere, è una box stock classica, una macchina da, quella che uso per fare le garette MR03 box stock, quindi spero di avervi spiegato tutto, non vi ripeto il nome, Birkpod, comunque descrizione, link per acquistarli direttamente sul sito di MiniZ Racing, io vi ringrazio del supporto che mi state dando, continuate a scrivermi e le richieste dei video che vi interessano e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!